Dopo la sua richiesta, il prefetto di Catania ha commissariato la carola di Mineo. Parliamo di un appalto di 100 milioni di euro in mano a cooperative finite nel mirino delle procure di Roma e Catania nell'ambito dell'inchiesta di mafia capitale. Inchiesta che ha messo alla luce un sistema ben collaudato di consenso elettorale e denaro. Lei fin da subito aveva dichiarato illegittima la gara. Perché? Perché noi avevamo avuto un esposto che riguardava questa specifica gara e avevamo verificato che il bando era stato costruito con criteri che ci sembravano tipici del cosiddetto abito su misura, cioè di una gara che era stata costruita in modo da non consentire una partecipazione concorrenziale, ma di soggetti che avevano alcune specifiche caratteristiche. Non è un caso che partecipò un'unica ditta con un ribasso d'asta di poco meno dell'1%. Le clausole che erano state indicate nel bando erano particolarmente limitative. Riguardavano per esempio la distanza al centro di cottura, riguardavano una serie di requisiti relative ai mediatori culturali. Cioè si richiedevano una serie di caratteristiche che ci sembravano troppo restrittive in relazione a quelle che sono le regole del codice dei contratti. Successivamente poi le indagini in mafia capitale hanno dimostrato che quella individuazione dei requisiti, così come noi avevamo già in parte individuato, era sintomatica veramente di un abito costruito su misura. Qui c'era evidentemente un fatto corruttivo che aveva comportato un significativo guadagno per i soggetti che avevano vinto l'appalto. L'appalto in questione era 100 milioni, ma è evidente che il giro d'affari era maggiore e poi c'era certamente tutta una serie di attività collegate anche alla gestione delle strutture amministrative. Noi stiamo parlando di un singolo appalto. Tra le regioni più interessate lei ha detto che la campagna è tra le più attenzione da parte dell'autorità e che quelli più a rischio sono i centri di accoglienza straordinaria in mano alle cooperative. Perché sono quelli più a rischio? Sono più a rischio perché si è trattato di strutture assolutamente raffazzonate e create ad hoc. Cioè c'era la necessità di individuare strutture dove mettere gli extracomunitari che arrivavano in Italia e quelli assegnati in una certa provincia. E sono state individuate spesso realtà che non avevano nessuna di queste caratteristiche che venivano utilizzate nella logica di trovare un tetto da offrire a questi nostri fratelli sfortunati senza nessuna verifica effettiva dei presupposti. Era un po' un modo per risolvere un'emergenza che poteva persino avere un senso nella logica dell'emergenza ma che in certe realtà, e la Campania da quello che abbiamo verificato, aveva queste caratteristiche e finito poi per ingrassare i soggetti che non necessariamente avevano i titoli. Noi stiamo ancora lavorando in Campania per quanto riguarda un periodo soprattutto del passato gli affidamenti che sono stati fatti a una serie di centri, a una serie di cooperative, a una serie di onlus. Anche lì stavano emergendo dati che evidenziavano più che il coinvolgimento della criminalità vere e proprie strutture operate con una logica truffaldina, cioè strutture che erano fatiscenti, inesistenti create ad hoc solo per fingere di fare accoglienza o facendo un'accoglienza molto al di sotto delle possibilità. Per esempio nell'indagine fatta alla Procura di Napoli sulle strutture campane emergeva che il titolare della struttura prendeva persino i cosiddetti pocket money, cioè queste somme che avrebbero dovuto essere consegnate ogni giorno agli immigrati se ne appropriava e li ha utilizzati poi distratti per finalità personali. Elementi di questo tipo emergono anche in altre indagini giudiziari. La politica dell'emergenza da sempre favorisce mafie e malaffare. Nel sistema di accoglienza di migranti è stata accertata la presenza delle grandi organizzazioni criminali organizzate? Il sospetto verificando certe realtà è che ci possa essere uno zampino della criminalità organizzata. Ad oggi però le indagini giudiziarie, tranne che nelle vicende romane, non lo fanno intravedere. Io credo che in relazione ai grossi guadagni economici è abbastanza difficile ritenere che in realtà in regioni in cui è particolarmente alto il tasso di criminalità organizzata, la camorra, la mafia, l'andrangheta, la sagra economica, siano rimaste a guardare. Il tema vero è che la gestione dell'immigrazione viene fatta ancora con una logica tipica dell'emergenza, malgrado ormai siamo da tempo oltre l'emergenza. E questo in qualche modo ha abbassato moltissimo e continua in parte ad abbassare moltissimo il livello delle regole.